Bentornati a Memory 8-Bit ed eccoci qui a parlare del film di Bohemian Rhapsody. Ve l'avevo promesso quando avevo commentato il trailer in questione un po' di mesi fa. Il film fra l'altro era già uscito da un mesetto buono nelle sale inglesi, mentre invece è arrivato in Italia il 29 novembre. E io l'ho atteso tantissimo perché tutti quelli che sono appassionati come me dei Queen, i Queen sono la mia più grande passione in assoluto, nonostante sia una tipologia di video che io non tratto solitamente qui sul canale, ma ne riapprofitto per chiedervi, vi va che io faccia dei video del genere? Mi piacerebbe tantissimo fare dei video su ogni singolo album dei Queen. Conosco tantissimo, li amo tantissimo, li ho approfonditi tantissimo, il più possibile più di qualsiasi altra cosa. Se pensate che io normalmente riesco ad essere esaustivo su altre cose di cui tratto solitamente qui, nel caso in cui vi interessi, posso esserlo altrettanto e di più su questo argomento. Detto questo, la prima cosa che dico subito è che non farò degli spoiler, parlerò del film in generale, parlerò un attimino di quello che penso e le mie impressioni, soprattutto poi voglio ascoltare le vostre qui sotto nei commenti e ci sarà in maniera piuttosto esplicita una seconda parte, sempre del video, dove dirò a un certo punto però, ok, possiamo chiuderla qui per chi non vuole sapere altro, continuiamo per chi l'ha visto, perché sento la necessità di entrare poi anche in alcuni dettagli che potrebbero essere considerati spoiler. Il film, come dicevo, è stato atteso per tantissimo tempo, ha avuto una lavorazione a dir poco travagliata, il tutto seguito da Brian May e Roger Taylor, quindi i due, diciamo, superstiti attivi dei Queen, perché John Deacon ha deciso di ritirarsi da molto tempo ormai dalle scene. arriva nelle sale con la regia di Bryan Singer, nelle sale italiane, il 29 novembre, io l'ho visto quindi ieri. Che penso di questo film, ragazzi? Cosa penso? È un film strano. È basato principalmente su quello che la gente sa. È un film su Freddie Mercury. Non inizia nel modo in cui si capisce questo. Sembra all'inizio un film sui Queen, io lo sapevo che è un film su Freddie Mercury, però comunque all'inizio mi sono stupito, ho detto, oh, guarda, quindi in effetti forse è un film praticamente sui Queen. Solo che lo fa in una maniera piuttosto veloce. Vi dico fin da subito quello che penso in linea generale, cioè che la prima parte rispetto alla seconda, proprio quando c'è stato lo stacco tra il primo e il secondo tempo, sembrano scritti, diretti e fatti da due persone completamente diverse. ha un ritmo narrativo veramente sbagliato nella prima parte, tanto quanto poi invece riesce ad aggiustare il tiro nella seconda. La prima parte succede tutto immediatamente, ma immediatamente vi dico nei primi cinque minuti. Io ho cercato di darmi dei parametri musicali di film che nel tempo si sono risultati essere vincenti o comunque sono rimasti nella memoria. Sono pochissimi film musicali biografici che sono dedicati quindi a cantanti, a figure esistenti che hanno poi veramente funzionato come prodotto cinematografico. Questo è un film, non è un documentario, dobbiamo ricordare anzitutto questo. I parametri che mi ero dato sono il film sui Doors, che poi alla fine è un film su Jim Morrison, e il film dei Blues Brothers. I film completamente diversi, perché il film dei Blues Brothers, anzitutto, non è una figura reale, loro esistevano come band, ma ovviamente erano già una band finta, anche quando esistevano, e racconta con questa trama piuttosto sgangherata il fatto che debbano raccogliere i soldi per salvare l'orfanotrofio. Quindi c'è questa prima parte in cui vengono raccontati i personaggi e che devono riuscire a reclutare poi gli altri per riuscire a fare questo concerto e raccogliere i soldi. Il film sui Doors, che è un film su Jim Morrison, è così tanto su Jim Morrison che inizia con un flashback di lui ragazzino, per poi tornare spesso anche su questa cosa, per poi quindi concentrarsi principalmente sulla sua figura e sulle cose che gli accadono intorno, tra cui anche i Doors. Quindi quello fallisce come film sui Doors, ma è un grandissimo film su Jim Morrison e sulla sua figura, che non è preciso, non è documentaristico, anzi è molto sbagliato da tanti punti di vista, ma è un film perfetto perché riesce a essere un film. Accade questa cosa con Freddie Mercury in questo film? Sì. Il problema è che ci si confonde tra essere un film sui Queen e essere un film su Freddie Mercury. E dato che il titolo è ambiguo, perché Bohemia Rhapsody non è quindi né Queen né Freddie Mercury, non è esplicitato, anche se si sa che è un film su Freddie Mercury. Il punto è che inizia come se fosse un film sui Queen, perché di lui si racconta niente. Inizia subito, subito, siamo subito lì, subito l'incontra, subito si mettono insieme. Questa cosa succede in cinque minuti? A un certo punto ti rendi conto però che effettivamente si concentrano solo su di lui. questo è per me il difetto più grosso del film, il fatto che diano per scontato che noi già conosciamo questa figura. Qui andiamo facile, perché Freddie Mercury è una figura così tanto conosciuta che quindi quasi è come se non ci fosse bisogno di descriverlo realmente per quello che è. Questa cosa la fanno nella seconda parte, poi un po' meglio. Meglio. Molto meglio. Gli altri intorno tragedia. Sono tutti delle macchiette barra comparse. Gli attori sono fantastici. Sono impressionanti. Brian Meglio impressionanti. Roger un po' meno, John Deacon è quasi impressionante. A volte a volte mi sembrano dei cosplayer per quanto sono impressionanti e precisi. il problema è che come dicevo sono molto spesso senza animo. Al di fuori di una battuta brillante poco si sa su di loro. Noi di Brian May non capiamo come sia fatto. Non lo capiamo di Roger Taylor, non lo capiamo figuriamoci di John Deacon che neanche si vede quando lo incontrano la prima volta. Ma abbiamo John Deacon qui. Così. E questa stessa cosa accade anche per tutta una serie di altri personaggi poi dopo ripeto nella seconda parte entrerò più nei dettagli più spoilerosi al riguardo anche per capire poi dei confronti con la realtà dei fatti che non è comunque quella che mi interessa ripeto. E in più ci sono degli errori incomprensibili che non riesco a spiegarmi perché non sono funzionali alla storia come invece poi dopo accadrà che ci sono dei cambiamenti funzionali nella storia nella seconda parte la seconda parte è molto più lenta molto più concentrata sull'emotività del personaggio sulla sua caratterizzazione Freddy Mercury finalmente tira fuori delle cose che non sia soltanto essere antipaticissimo perché secondo me per chi non lo conosce affatto e non ha mai sentito magari parlare di lui esce fuori un'idea proprio di un antipatico esagerato e si riesce un attimino a inquadrare meglio purtroppo la seconda parte è un altro difetto l'altro difetto è che è molto facile quindi parlare di qualcuno che sappiamo come è scomparso e per quale motivo è scomparso e diventa un po' lecchino in alcuni punti la seconda parte è all'80% ottima secondo me questo film era meglio se avesse messo di più da parte i Queen a quel punto e si fosse concentrato unicamente ed esclusivamente su Freddy Mercury come in realtà fa solo che ogni tanto sembra un film sui Queen e sono le parti peggiori sono proprio le parti più raffazzonate le parti più veloci le parti più sbagliate cronologicamente storicamente sono quelle che che stai lì proprio a dire ma in più per uno che non li conosce sono le parti più veloci sono le parti più dove si passa da una cosa all'altra immediatamente senza spiegartene ci sono due cose che se vuoi fare un film sui Queen avresti dovuto come minimo dire quindi questo non è uno spoiler perché è una cosa storica vera e non c'è e sono uno il fatto che Queen non erano una band da stadio all'inizio ma erano una band con una forma mentis musicale avevano una tipologia di suono una tipologia di idea musicale che poi era quella originaria diciamo così di Brian May e Roger Taylor che non era portata a interessarsi del pubblico loro suonavano non interagivano Brian May per tutti gli anni 70 a questa faccia quando suona e basta fino a quando poi si rendono conto che il pubblico canta e decidono di fare poi gli inni quindi We Rock You e We Are The Champions e manca un'altra cosa importantissima che il fatto è che i Queen fino a Knighted di Opera il titolo del film è Bohemian Rhapsody che è all'interno di quest'album erano letteralmente poveri perché avevano un altro manager di cui non si fa minimamente riferimento in questa cosa questa è una cosa che potesse essere interessante per tre album non avevano praticamente guadagnato niente perché tutto il contratto era sbagliato e anche se avevano avuto dei brani di un minimo successo Killer Queen Seven Seas of Rye soprattutto Killer Queen avevano pochi soldi questa cosa non esiste io quando ho letto le prime biografie di Queen la parte più emozionante per me era quella la loro evoluzione non c'è una evoluzione c'è soltanto poi capiamo su Freddie Mercury e per quello dico è strano perché sembra un film su Queen all'inizio e poi se lo dimentica o meglio poi si ricorda che è un film su Freddie Mercury per assurdo quello che dico è sarebbe stato meglio se avesse parlato meno dei Queen e si fosse concentrato solo sulla vita privata di Freddie Mercury che è quello che fa bene quello che fa meglio e anche se ci sono degli errori lì nella parte dedicata alla vita privata di Freddie esce bene l'attore ragazzi è bravissimo è la sua parte scritta molto bene a parte poi determinate inquadrature lecchine verso la fine vorrei sapere assolutamente da chi non conosce nulla dei Queen se lo ha visto cosa ne pensa sento il bisogno e le necessità di sapere cosa ne pensate perché è facile per una a cui piacciono i Queen o in generale piace quel tipo di musica dire che è ficata però secondo me dà troppe cose per scontate dà troppo per scontate il fatto che Freddie è il grande animale da palcoscenico che sia e questa cosa in realtà non si vede la sua evoluzione Freddie non era così all'inizio ci provava ed era anche un po' maldestro nel farlo e si deve vedere questa cosa Freddie nelle sue prime band di cui non si fa minimamente riferimento se vuoi fare un'evoluzione del personaggio gli ibex i wreckage con gli ibex se sentite delle registrazioni intere dei loro concerti non era così tanto bravo come poi diventa ed è bellissima questa cosa io adoro il fatto che Freddie si sia evoluto si è migliorato con la sola forza della sua tenacia è questa la cosa bellissima per me di Freddie Mercury e invece qui sembra che era già bravissimo super bravo super fico arriva e fa tutto facilmente e non è così mi spiace dirlo e il bello è proprio quello quella parte mi manca mi manca l'entusiasmo iniziale mi manca quella cosa alla Bruce Brothers dove aspetti di vederli suonare invece qua li vedi suonare dopo dieci minuti spoiler quindi da adesso in poi invece inizia la parte con i dettagli per chi lo ha visto o per chi semplicemente vuole farsi del male qua comincio a dirvi chiaramente gli errori che sono stati fatti e gli errori inutili che sono stati fatti lui nel film arriva va a un concerto degli smile e se ne va e poi lui si presenta a loro e dice cercate qualcuno io scrivo canzoni abbiamo appena perso il cantante eccomi qua un pochino veloce questa cosa quando invece nella realtà dei fatti loro già si conoscevano già si conoscevano avevano anche suonicchiato insieme in alcuni casi e Freddy comunque è vero che gli stava dietro Freddy gli stava dietro e voleva suonare con loro perché loro erano bravi differenza negli ibex e dei breakage che insomma erano un po' di livello un po' più scarsino e sicuramente Freddy aveva una sua visione che per quella che ha realizzato grazie alla sua tenacia che ha fatto diventare vera quando ancora non era chiarissimo quello che poteva essere il suo potenziale ma no questa cosa è troppo affrettata si vedono salve sono qui cominciamo sai suonare il basso no scena dopo ecco a voi il nostro nuovo cantante Freddy Mercury il nostro nuovo bassista John Deacon anzitutto sembra che sono ancora gli smile e poi povero John che neanche mezza quanto sono belli i film musicali c'è la ricerca dove cercasi il bassista proviamoli e già sono bravissimi fra l'altro e già hanno successo ci arrivano a top of the pops dopo un quarto d'ora di film dopo venti minuti di film quello che è ci sono un paio di errori incomprensibili che sono quindi non funzionanti nella narrazione ma assolutamente incomprensibili uno di un po' più leggero cioè che nella sequenza di canzoni che si vede che cantano all'inizio quindi periodo Queen 1 barra Queen 2 73 74 fanno cantare Fat Bottom and Girls con i vestiti dell'Ivet Rainbow fa Fat Bottom and Girls che è una canzone del 78 e fra l'altro è una canzone con un testo leggero che loro cominciano ad avere dopo testi leggeri io in quel momento avevano i testi epici i testi progressivi i testi favolistici perché? io mi chiedo perché? non serve non è che tipo quella canzone in quel momento serve per raccontare qualcosa no, fa parte di un ciclo di canzoni che vengono cantate quindi perché mi fai cantare una canzone che è sbagliata il problema sapete perché me lo pongo? perché è un film che invece ha una precisione un'accuratezza nei vestiti nel modo in cui si muovono nel modo in cui si atteggiano dai micro movimenti a come suonano credo che sia il film più perfetto dal punto di vista delle finte esecuzioni musicali che vengono fatte sul palco loro oltre ad assomigliarci fisicamente alcuni moltissimo suonano veramente anche se non suonano come fece Michael J. Fox per dire in Ritorno al Futuro solo che qui è per tutte le volte che suonano è pazzesco come suonano bene per finta e poi quindi c'hai ti preoccupi di dove mettono le dita ti preoccupi di fare sembrare perfettamente che suonino uno strumento che è una cosa che molte persone non se ne accorgerebbero e anche questo ovviamente è una cosa che solo gli appassionati dei Queen possono conoscere proprio per dire ti preoccupi di un livello superiore di raffinatezza musicale accuratezza musicale e poi fai questo perché non serve non lo capisco e quindi secondo grossissimo questo gigantesco fastidiosissimo errore voluto incomprensibilmente è quando c'è lui con Mary e insomma è il momento topico in cui lui rivela di sentire altri tipi di impulsi sessuali Love of my life di sottofondo lui racconta quest'aneddoto eravamo lì che cantavo loro non mi capivano io ho cantato Love of my life improvvisamente il pubblico ha cantato tutto questa cosa è successa sul serio il problema è che lui lì la contestualizza dicendo quando abbiamo suonato a Rio a Rio a Rio lui suona negli anni 80 e invece lì fa riferimento a un concerto che in origine è successo sul serio questa cosa era stato in Giappone e aveva senso perché in Giappone posso capire che i brasiliani nemmeno quelli sono inglesi ma in Giappone il giapponese per un inglese è ancora più strano come linguaggio e quindi gli aveva davvero fatto impressione il fatto che dei giapponesi cantassero Love of my life quindi perché mi ha fatto questo cambio non lo capisco non lo capisco perché sarebbe stato più funzionale il contrario cioè che se questa cosa in origine sul serio fosse accaduta a Rio e decidessero nel film di dire facciamola accadere in Giappone perché così si capisce di più il fatto che lui si sia emozionato che un pubblico che non capisce completamente la sua ring abbia cantato Love of my life come è folle il fatto che abbiano fatto fare l'invenzione di Weaver Rock quando già erano nel 1980 con The Game anche quello non è funzionale alla storia non lo capisco cambio in funzione della storia quando lui dichiara di essere affetto da Aiz questa cosa non accade prima dell'Eyveid per chi lo sa ovviamente in questo momento non so se già chi l'ha visto chi non l'ha visto chi già conosce comunque lui non dichiara per niente questa cosa prima dell'Eyveid lo farà anni dopo ma io capisco il fatto che l'abbiano anticipata nel film perché il film si blocca all'Eyveid e quindi era giusto fare questo cambio era giusto anticipare questo momento per creare l'emotività che serviva sono d'accordissimo a questo cambio perché in funzione della storia a proposito dei personaggi che stanno intorno macchiette l'unico che secondo me esce molto bene pur essendoci due minuti è G. Matton sono felicissimo di come abbiano trattato G. Matton con una dignità anche lui è tutto sbagliato non è vero che si sono visti cioè non è vero niente di quello che loro raccontano tra lui e G. Matton però funziona sembra elegante lui era un uomo normale questa è la cosa bellissima G. Matton era un uomo normale piaceva a Freddy per questo perché era un uomo normale che non gli fregava niente dei concerti rock non conosceva neanche Freddy questa cosa comunque la dico in ogni caso G. Matton non è così come si vede nel film ma è così comunque mi piace quello che esce fuori gli danno una dignità che mi piace tantissimo cosa che per assurdo con merito nonostante ci sia per tutto il tempo e viene descritta abbastanza bene però è l'attrice che secondo me è l'attrice peggiore di tutto il film non mi spiace dirlo ma è quella che ha più o meno un'unica espressione o così o sorridente fine peccato perché non è scritta male Mary però secondo me è interpretata proprio malissimo il live aid finale è un po' lecchino ma incredibilmente emozionante quella parte è veramente molto bella è impossibile non commuoversi nel finale impossibile per quello dico un po' facilone strizza un po' l'occhio un po' lecchino però meglio lecchino che affrettato come poi invece per quasi tutto il tempo prima da questo mio flusso di coscienza come potete immaginare senza un minimo di appunto se vi è piaciuto questo video quindi magari condividetelo fatemi soprattutto sapere che ne pensate iscrivetevi al canale se siete qui per puro caso fatemi sapere se volete degli altri video sequin sugli album monografici molto probabilmente questo lo faccio quasi sicuramente sui buoni libri invece per conoscere davvero in maniera biografica storica inaccepibile la figura di Freddie Mercury grazie dell'attenzione e anziché la forza di cresco che sia con voi che normalmente è il finale we will rock you grazie a tutti grazie a tutti